Stiamo portando la natura, in realtà è proprio la campagna in città. Giornata europea delle fondazioni per sensibilizzare i più piccoli sui temi ambientali. Siamo al Parco Città di Foggia. Gesti quotidiani di rigenerazione. È il tema scelto per l'edizione 2022 della giornata europea delle fondazioni. A Foggia, l'isola che c'è, il progetto selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile, ha pensato di realizzare un laboratorio intitolato il Parco dei Ciclamini di Carta per sensibilizzare i più piccoli sul tema del recupero di beni. È stato augurato andare all'ambiente diffondendo buone pratiche educative. L'isola che c'è è un progetto che offre opportunità ai bimbi 0-6 anni. Noi oggi abbiamo qui ospitato le scolaresche della scuola catalana che ci dà sempre sostegno in queste iniziative ma che diventa praticamente è la scuola del parco. Acri e Assifero hanno promosso eventi in oltre 100 città d'Italia con al centro iniziative di rigenerazione realizzate su territori delle fondazioni, luoghi dismessi, recuperati e destinati a nuovi usi comunitari, beni confiscati alla criminalità e destinati a fini sociali, spazi recuperati tramite il verde come Parco Città Foggia, laboratori di riciclo realizzati con materiali di scatto. Obiettivo partire dal basso per costruire progetti di sostenibilità.